Per avere successo nel trading e negli investimenti non servono davvero le cose troppo complicate infatti tutti quanti i grandi autori del passato hanno sempre basato il loro successo su poche e semplici regole oggi ti parlo del Delphic phenomenon una tecnica che arriva dal passato ma che ha qualcosa di incredibile infatti ti accorgerai che funziona su qualunque strumento al mondo non importa se è una valuta, se è un indice o un'azione e soprattutto su qualunque time frame perché questo? Semplice perché è stata congegnata dall'autore per seguire l'andamento del titolo in maniera armonica per seguire il titolo nel suo armonico movimento vediamolo insieme per identificare Delphic phenomenon innanzitutto abbiamo bisogno di due medie mobili noi dobbiamo andare alla ricerca dell'incrocio delle medie mobili una tecnica veramente molto semplice ma proprio per questa sua semplicità snobbata da tutti i trader moderni anche perché l'incrocio di medie mobili noi sappiamo ha sempre avuto un grande difetto ovvero quello di non sapere inizialmente se questo sarà un incrocio duraturo o meno oppure se ci troveremo di fronte a un qualcosa del genere ora proprio per sapere se questo sarà un incrocio valido o meno viene in nostro soccorso il Delphic phenomenon quindi a seguito di un incrocio di medie mobili noi dopo dobbiamo andare ad analizzare l'andamento del titolo quindi noi avremo sicuramente un titolo che avrà incrociato verso l'alto e secondo la prima stesura di questo pattern il titolo dovrebbe ritornare all'interno delle due medie mobili una lenta e una veloce per poi ripartire e a quel punto da questo punto in poi noi sapremo che quella è veramente la partenza di un nuovo ciclo rialzista ora non importa se l'autore identifica queste due medie come una media a 18 periodi una media a 40 periodi in realtà se segui questo canale da più tempo sai che io utilizzo altre medie ma questa è una tecnica che funziona con qualunque tipo di media mobile ovviamente questa è la stesura classica di questo pattern però io ti assicuro che se inizierai a guardare tanti tanti grafici ti renderai conto del fatto che ovviamente la borsa non si muove sempre tutta uguale come è scritta nei testi scolastici questo è ovvio altrimenti sarebbe tutto troppo facile saremmo tutti troppo ricchi infatti tu ti renderei conto che ci sono volte nelle quali ad esempio il titolo è talmente forte che arriva ad avvicinarsi alla prima media e poi riparte non arriva neanche alla seconda altre volte al contrario arriva alla seconda magari anche leggermente sotto e riparte altre volte ancora vedrai il titolo arrivare e stare per più tempo vicino nei pressi delle medie e poi ripartire insomma come hai capito è un gran casino insomma la borsa non si muove in maniera lineare e non è sempre tutto così semplice ma la cosa fondamentale sulla quale voglio che tu focalizzi la tua attenzione è che anche se noi utilizziamo una sola media mobile non importa ma ogni volta che ritorniamo dal foglio bianco facciamo la nostra prima media mobile quindi ritorniamo a fare la nostra prima media mobile ora adesso ipotizziamo di fare il titolo anche se ci anche se siamo di fronte ad una sola media mobile il concetto importante che ti deve rimanere impresso è che ogni volta che c'è un riavvicinamento poi dopo c'è una partenza quando c'è un taglio di una media mobile solitamente assistiamo anche o di una o meglio se di più media mobili noi assistiamo ad una accelerazione nel senso rialzista o ribassista del titolo questa accelerazione naturalmente dopo poco tempo tende a normalizzarsi verso il campionamento che viene dato dalla media mobile ed è per questo che questa tecnica non può non funzionare nel futuro non può non funzionare con qualsiasi strumento e con qualsiasi time frame perché la media mobile è un campionamento storico del titolo quindi data un'accelerazione che ha creato un disallineamento temporaneo dopo un po' c'è un riavvicinamento e a questo punto la media che prima era ribassista inverte diventa rialzista e da quel punto in poi abbiamo il nostro movimento che finalmente parte nella direzione auspicata ora andiamo a vedere un po' di grafici iniziamo a ripulire il nostro foglio di lavoro andiamo a vedere qualche grafico ora noi qua che cosa abbiamo? il Nasdaq 100 a un giorno ma davvero si può trovare in qualunque strumento come vediamo qua c'è stato l'incrocio rialzista poi il titolo ha superato anche al rialzo la media mobile lenta a 200 periodi dopo questa prima fase di impulso rialzista spero che sia davvero visibile a tutti che è quella che ha cambiato un pochettino la storia le sorti di questo titolo a quel punto il titolo si è riavvicinato è ritornato in maniera scolastica all'interno delle medie e poi è ripartito questa è un'applicazione davvero scolastica ma ci sono anche questo è il Fuzzi Mib qua notiamo come il titolo sia arrivato a toccare la media mobile lenta prima di ripartire ma continuiamo ad analizzare il Fuzzi Mib magari sul time frame weekly ad esempio e vediamo come qua ci sia stato l'incrocio di medie mobili con il riavvicinamento qua è il classico esempio di titolo molto forte che non è riuscito a tornare al di sotto delle medie mobili ma si è fermato prima lo storno altro esempio invece di trend meno forte degli altri dove addirittura il titolo è andato per due volte sotto alla media mobile a 200 periodi qua c'è un altro esempio molto bello e perfetto di riavvicinamento qua si vede davvero benissimo come dopo una lunga fase di discesa ci sia stata una fase di trend up dove in pochissime candele ma veramente in pochissime candele 1, 2, 3, 4 candele il titolo è passato da sotto tutte le medie a sopra di tutte le medie e poi c'è stato il classico riavvicinamento per poi ripartire in maniera repentina andiamo a vedere ad esempio il titolo Apple vediamo anche qua come ci sia stato l'incrocio rialzista primo incrocio secondo incrocio con il movimento rialzista e poi dopo abbiamo avuto il ricontatto fra il titolo e le medie mobili e poi è partito davvero il trade ora anche qua chiaramente noi possiamo individuare la stessa ripartenza poi però in questo caso non c'è stato il Delphic phenomenon il Delphic phenomenon qua è fallito c'è stato un mega trappolone ed è il titolo ha riaccelerato il ribasso ovviamente non esistono come detto tecniche fenomenali in grado di farci guadagnare sempre e ovunque un altro esempio di torniamo a vedere il Nasdaq se vogliamo vediamo come possa funzionare anche in time frame molto più piccoli guardiamo qua come ha funzionato molto bene sui 15 minuti qua c'è stato il primo incrocio che ha portato poi al secondo incrocio qua tutte le medie qua hanno incrociato al ribasso ad un certo punto il titolo accelera al ribasso ma ritorna su ritorna su fino dove? fino esattamente a toccare tutte le medie mobili per poi ripartire riaccelerare e a quel punto parto il vero e proprio trade ribassista parliamo però adesso anche di un titolo nel quale il Delphic phenomenon è fallito altrimenti saremo qua sempre e solo a fare i fenomeni da baraccone del web se voi ricercate sul mio canale metterò comunque il link in descrizione qualche mese fa avevo parlato del titolo Amplifon proprio perché si stava manifestando il Delphic phenomenon noi ci trovavamo in questa fase allargo un po' la finestra dopo questa serie di bottom dopo aver visto il nostro oscillatore in divergenza positiva non si può non notare questa sparata rialzista che ha portato all'incrocio delle medie mobili poi ad un certo punto il titolo ritorna giù fino a toccare esattamente la media mobile a 200 periodi eravamo al 3 di luglio e a quel punto io avevo fatto il video proprio perché mi aspettavo una ripartenza ripartenza che però purtroppo per motivi esogeni diciamo motivi a me ignoti questo non si è avverato il titolo ha continuato a scendere ma è per questo che servono gli stop loss in borsa bene anche per questo video è tutto se ti è piaciuto come sempre lasciami un like e a questo punto ci vediamo al prossimo video sempre sul circolo degli investitori